Vorrei soltanto ricordare l'affermazione di Leopoldo Franchetti che risale a più di cento anni fa nel corso della prima inchiesta sulla mafia siciliana. Noi l'abbiamo ricordato nella prima lezione in cui si afferma chiaramente quali sono le caratteristiche dell'assorsione mafiosa e si continua dicendo che in questo tipo di assorsione è estremamente difficile distinguere la vittima dal complice. Ma il problema degli appalti abbiamo visto è il problema centrale. Il giudice Borsellino ricordava anche un documento del 1864 ribadito poi come abbiamo detto nella prima lezione di mafia anche nel rapporto del senatore Iacini. Già da allora c'era questa commistione tra apparti e politica. Sentiamo adesso in proposito un'altra dichiarazione del giudice Falcone e poi torneremo nuovamente a parlarne con i nostri obiettivi. Un dato certo, ripeto, è che in qualsiasi tempo e soprattutto adesso l'organizzazione mafiosa ha sempre tenuto alla sua autonomia. Quindi non ha mai accettato e meno che mai adesso di essere subalterna a forze politiche di qualsiasi genere. Tutto questo è stato interpretato come se io affermassi una inesistenza di rapporti tra mafia e politica. Nulla di più lontano dalla realtà rispetto a quello che è il mio pensiero. E' chiaro che un controllo del territorio così occhiuto, così pesante, così condizionante non può che tradursi nel momento del voto in un orientamento sicuro da parte delle organizzazioni mafiose nei confronti di un partito anziché di un altro, di un candidato anziché di un altro e di queste vicende abbiamo esempi di origine. Da ultimo vi sono state, da ultimo rispetto a quello che è noto al pubblico perché sono ulteriori attestizioni, di quanto ha riferito Marino Mannoia su questi argomenti. Marino Mannoia ha parlato di ordini ricevuti per far votare un determinato partito, riferisce anche di contributi raccolti per sostenere un altro partito e così via. Quali partiti? Veda, il problema non è di stabilire questo o quel partito e soprattutto a mio avviso il problema non è il sensazionalismo. Il problema è grave, quello del condizionamento della politica, soprattutto a livello locale, da parte della Magia. E quindi queste vicende che possono riguardare oggi determinati partiti, domani ne potranno riguardare altri. Ma non, e questo è il punto, non il partito in quanto tale, in quanto l'organizzazione mafiosa sposa la ideologia di un determinato partito. Ma perché nelle sue strategie, nella sua ottica, in un determinato momento storico, è opportuno appoggiare questo anziché quell'altro partito. E soprattutto, anche lì è molto importante far rilevare che se tutto ciò vale nella generalità dei casi, ci sono stati e ci sono episodi di uomini politici, soprattutto a livello locale, che fanno parte a tutti gli effetti di cosa nostra. Ecco, questa è un'importante testimonianza del giudice Falcone, dove si deve capire che lui faccia chiarezza su questo problema, ribadendo ancora una volta il principio che non esiste, diciamo, il cosiddetto terzo livello, cioè una cupola superiore che dà ordini alla mafia. Ma come ha detto nella nostra prima trasmissione il professor Renda, dell'Università di Paderno, ciò che caratterizza e distingue un'organizzazione femminile dalla mafia è proprio il rapporto con la politica. Questo è un problema delicatissimo che abbiamo visto.